In questo video scopriamo una build order standard del Sacro Romano Impero. Benvenuto, bentornato sul canale, io sono Fugue e questa guida di oggi si dividirà in due parti. Nella prima vedremo i passi che sono praticamente invariati per arrivare ad età feudale e poi vedremo assieme come arrivare il prima possibile ad età dei castelli senza però trascurare le nostre difese. C'è una build order che vi consente di arrivare ad età dei castelli in 7 minuti senza fare torri o unità facendo comunque un paio di edifici di produzione ma preferisco non mostrarla in questa circostanza perché nel caso in cui l'avversario vi attacchi vi lascia comunque molto vulnerabili ed esposti. Inoltre se fate la cattedrale di Regnitz come vi farò vedere in questa build non avere il controllo della mappa ovviamente non vi consente di sfruttare il vantaggio di poter raccogliere le reliquie con i vostri prelati nel caso in cui il vostro avversario sia attento. Detto questo, cominciamo. Immediatamente non appena inizia la partita mettete in coda gli abitanti, uccidete con tutti la pecora, ne andate a selezionare tre e li conducete alla miniera d'oro più vicina. Due abitanti faranno la miniera e uno farà la casa. Tutti gli altri abitanti che escono dal centro cittadino andranno quindi al cibo. Nel frattempo ovviamente scoutate attorno alla base col vostro scout. In questo momento se vi serve la sentite, avete un po' di APM, potete mandare il vostro prelato ad ispirare gli abitanti sulla miniera d'oro e nel frattempo potete uccidere manualmente le pecore con gli abitanti sotto il TC. Una volta che avete ispirato tutti gli abitanti qui, ricordatevi di far ritornare il prelato sugli abitanti al cibo. Delle due cose, se non vi sentite sicuri di poter fare questa attività, conviene lasciare gli abitanti sempre sul cibo, dato che sono in maggior numero, quindi vi conviene assolutamente ispirare questi. Altra cosa da tenere a mente in questa fase in cui non succede molto è che uno dovete cercare di tornare in base con le pecore abbastanza presto, prima di con un'altra civiltà, dato che il Sacro Romano Impero, avendo questo bonus del 40% che il prelato dà agli abitanti, tende a mangiare le pecore ad una velocità assolutamente maggiore rispetto al solito, e l'altra cosa molto importante è già iniziare a pensare dove andate a piazzare la vostra cappella di acquisgrana. Avevamo detto nel video precedente, di cui vi lascio il link se ve lo siete persi, che è in ordine di importanza, è importante coprire legna, poi cibo, poi oro ed infine pietra, e che è importante mettere i propri abitanti, mettere la propria cappella in una zona che sia protetta all'esterno, diciamo, della base, piuttosto che rivolta verso il nemico. Ora, come potete vedere, siamo nella condizione in cui abbiamo nove abitanti al cibo e tre abitanti all'oro, e ci prepareremo a passare quindi all'età feudale con quattro abitanti di quelli che erano del cibo. Per cui, in questa condizione, possiamo notare che la cappella di acquisgrana potrebbe essere messa o in una posizione veramente scomoda tra cibo e legna, che però ha tanto spazio per le farm ed è lontana dalla base nemica, oppure se vogliamo coprire l'oro in una posizione comunque un po' più esposta, ma che ci consente di avere la woodline praticamente attaccata alla cappella e quindi di evitare anche di fare una falegnameria. Per cui penso che in questo caso opteremo per questa opzione. Per cui, ora, a breve avremo sia l'oro che il cibo che ci serve, per cui andremo a selezionare i nostri quattro abitanti e andiamo a piazzare la cappella avendo cura di lasciare almeno uno spazio per fare una fattoria poi in quella zona. Una volta che abbiamo abbastanza cibo per passare di era, possiamo fare, facciamo due cose. Allora, innanzitutto spostiamo gli abitanti dal cibo alla legna con il prelato che ispira, a differenza delle altre civiltà, sono sufficienti tre abitanti al cibo per continuare a produrre abitanti e spostiamo gli abitanti dall'oro, ma non subito. Il mio consiglio è di raccogliere circa 40 unità di oro che ci possono servire in molti modi. Questo perché? Perché adesso andremo a cercare di fare quel minimo di difese che ci servono per respingere eventuali attacchi avversari. Per cui in questo momento, con l'ispirazione del prelato, abbiamo all'incirca sei abitanti alla legna, quattro che fanno il landmark e rimettiamo abitanti al cibo. La legna ci servirà, potete mettere anche sette abitanti alla legna, ci servirà quindi per fare il prima possibile una casa, che vi ricordo è bene sia al di fuori dell'area della cappella di acquisgrana, e poi una difesa di nostra scelta, che può essere torrette o caserme. Un metodo standard che si faceva una volta era di piazzare una torretta sull'oro e una torretta sulle bacche, per poi andarle a potenziare magari raccogliendo un po' di pietra, con il potenziamento delle feritoie. Però questo è passato un po' in disuso, non tanto perché le difese statiche siano più deboli, dato che il Sacro Romano Impero le può difendere con le riparazioni d'emergenza, ma perché è comunque un investimento che è all'incirca di 300 risorse, che poi dopo non dà i suoi frutti più avanti nel game. Anche perché se invece le spendeste per difendervi in truppe, potete comunque riutilizzare più avanti gli edifici di produzione, mentre invece una volta esaurite le bacche piuttosto che l'oro, la torretta non fa un granché, anche se comunque può essere un posto discreto in cui alloggiare le vostre reliquie. Per cui ora andiamo a vedere come se per esempio stessimo giocando contro i francesi, questi 53 di oro che magari se facessimo due torrette servirebbero per avere l'oro necessario per fare i potenziamenti, in questo caso ci serviranno invece per fare una caserma e fare il potenziamento delle picchie che costa 35. Per cui a breve passeremo di era, ricordiamoci di spostare il prelato dentro la cappella, metteremo questi quattro abitanti all'oro e questi abitanti dalla legna li porteremo qua vicino alla cappella dove sono ispirati. Ora, in questa circostanza se dovreste avere continuato a scautare, dovreste avere delle ulteriori pecore da portare, per cui a questo punto nuove pecore che state conducendo alla vostra base, in questo caso andranno spostate nella direzione in cui sono influenzate dalla cappella di acquisgrana. Se come in questo caso siete in una condizione in cui la cappella di acquisgrana non vi protegge il cibo, una volta che avete la caserma potete mettere in coda un paio di menetarm, piuttosto che un paio di picche con il potenziamento delle picche e continuare a produrre abitanti e metterli al cibo. Con circa sei abitanti alla legna potete fare una strada in cui una volta che avete fatto magari un mulino sulle bacche piuttosto che un secondo edificio di produzione come una scuderia, potete anche iniziare a fare qualche fattoria attorno alla cappella di acquisgrana che riceve un bonus molto importante. Alternativamente potete mettere questi abitanti sulle bacche e fare un secondo prelato che comunque vi servirà per raccogliere poi le reliquie e potenziare gli abitanti che raccolgono anche se sono al di fuori dell'area della cappella di acquisgrana. Ovviamente, dato che le vostre difese in questo caso possono essere un po' messe sotto pressione, poteste fare una torretta su loro e magari tenere le picchie, due o tre picchie di difesa qui sulle bacche nel caso in cui siete per esempio contro un giocatore francese, nel caso in cui siate contro un giocatore inglese, un giocatore abbasside che invece di attaccarvi con dei cavalieri pesanti vi può attaccare con picche e archi che riceve anche gratis. Potete scegliere addirittura di fare una cosa proibita per il Sacro Romano Impero e mettere giù un'arceria e fare circa 4-5 arcieri per intuzzare l'attacco. Ovviamente, se vedete che il vostro avversario inglese non ha fatto caserma ma lo sta semplicemente facendo archi lunghi, basta anche fare una scuderia e fare qualche cavallo leggero per proteggervi. Il concetto comunque qui è di cercare di bilanciare le risorse tra cibo e oro per avere un quantitativo bilanciato per raggiungere l'età dei castelli e di fare giusto quel quantitativo di truppe che vi sentite sicuri. Per esempio, vedete che avete un po' troppo oro, un po' troppo cibo potete o spostare gli abitanti magari o fare qualche upgrade che per esempio, in questo caso, come Cariola non è mai sprecato. Potete fare qualche truppo addizionale se vedete che state raccogliendo troppo cibo rispetto all'oro quindi anche in questo caso, se il vostro avversario non vi sta più mettendo in pressione potete comunque utilizzarle per andare attraverso la mappa e mettere pressione a vostra volta. È comunque importante avere una o due scuderie una volta che passate all'età dei castelli perché questo vi darà l'accesso al cavaliere e i cavalieri in quel modo possono essere utilizzati per andare un po' a ribaltare la situazione ed andare a raidare il vostro avversario. Non c'è un tempismo giusto per raggiungere l'età dei castelli diciamo che a seconda delle circostanze, delle unità che producete potreste raggiungerlo all'incirca dagli 8 minuti ai 9 minuti 9 minuti e mezzo diciamo e bene o male vi consiglierei di passare di era con all'incirca 8-9 abitanti mettendo la vostra cattedrale di Regnitz in una zona in cui non è coperta dalla cappella di Aquisgrana. Essere così cauti nel passaggio all'età dei castelli vi consente comunque di avere anche già qualche truppa sul campo magari un prelato extra che potete già posizionare quindi mentre state passando di era per difendere diciamo i vostri prelati mentre raccolgono le reliquie. Ora va detto che sono state nerfate molte volte per cui anche fare incettare le reliquie non è più una vittoria garantita come lo era magari nel passato per cui non trascurate assolutamente anche l'aspetto economico standard della faccenda. Se avete mantenuto questo split bilanciato di risorse tra cibo e oro una volta che siete passati di era dovreste avere la capacità di mettere in coda un paio di cavalieri pesanti magari da due scuderie di raccogliere immediatamente una reliquia col vostro secondo prelato e di mettere magari in coda un altro per andare a raccogliere un'altra reliquia ovviamente sempre tenendo prestando attenzione al fatto che sarà sicuramente attenzione del nemico cercare di contestare queste reliquie potrebbe anche cercare ad esempio di farci dei muri attorno per impedirvi di raccogliere coi prelati e proprio per questo anche le unità che abbiamo fatto precedentemente possono essere molto utili per magari riuscire a negare questo tentativo da parte degli abitanti avversari di precludervi l'accesso alle reliquie. Ragazzi io spero che per quanto un po' a momenti con tante variabili questa guida vi possa essere stata utile se avete qualche domanda fatemi sapere nei commenti noi ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti